Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, oggi parliamo della Kronos Chain che è ufficialmente live a partire da stamattina e in particolare con questo video voglio fare una breve overview di quelle che sono le piattaforme già disponibili a partire dal day one, quelle che invece magari ancora dovranno partire nei giorni successivi o nelle settimane successive ed in particolare voglio darvi qualche sito barra server discord che vi consiglio di seguire se volete rimanere sempre aggiornati su quali sono le piattaforme che vanno live, su qual è il parere un po' della community su queste piattaforme, soprattutto se avete intenzione di sperimentare con strategie un pochino più ad alto rischio su questo ecosistema che lo ribadisco è partito stamattina quindi ad oggi non c'è liquidità praticamente a parte per qualche coppia ma veramente poche. Un consiglio importante a mio avviso su una chain come quella di Kronos che è partita ad oggi quindi è veramente nuova è quella di trattare un po' tutti i progetti come se fossero un po' degli scam quindi non andando a fidarsi ciecamente di ciò che c'è scritto sul sito ufficiale o nella loro roadmap o anche banalmente nel numero dei loro follower perché comunque sappiamo che esistono possibilità di comprare bot quindi magari andate anche a vedere quanta interazione reale c'è nel discord, nel telegram e nel twitter ufficiale prima di lanciarvi a fare un APIN su un protocollo così nuovo anche perché possiamo paragonare un po' la Kronos chain come la BSC da parte di Crypto.com e sappiamo che nella BSC gli scam sono all'ordine del giorno soprattutto in fase iniziale quindi sicuramente ci saranno dei progetti vincenti fra tutti questi ma molti saranno scam o semplicemente molti non avranno successo. Detto questo vi voglio subito far vedere questo sito tutti i link ve li lascio in descrizione in sostanza si tratta un po' come se fosse un excel che è tenuto aggiornato da Crypto.com Ambassador da questo profilo twitter che potete andare a seguire e è una sorta di raccolta di tutti quelli che sono i protocolli già attivi o che devono ancora lanciare. Tra l'altro è ben organizzato perché nel tag vedete la categoria alla quale si riferisce vedete una brevissima descrizione e poi link al twitter telegram discord e sito ufficiale qualora già ci sia. Tenete presente che molti di questi ancora devono lanciare ce ne sono veramente pochi attivi al day one e anche quelli attivi comunque per esempio tra gli exchange decentralizzati che adesso vedremo hanno praticamente bassissima liquidità se fate un trade probabilmente neanche potete farlo perché non c'è proprio la liquidità. Vi consiglio anche di seguire questo discord quindi è il link che trovate qui perché sostanzialmente si è creata una community di persone che si aiutano a vicenda per andare a scoprire e a trovare sempre più informazioni sui vari progetti e questo può essere di aiuto per confrontarsi con anche altre persone della community comunque di Kronos oltre che stare sempre aggiornati su eventuali rag pool eventuali scam progetti che magari hanno alcuni punti che fanno già pensare a scam quali appunto dei bot che vanno a rispondere nei commenti tutte cose del genere quindi vi invito anche di seguire questo discord qua che invece è molto tranquillo ci sono riflessioni intelligenti e costruttive. Vi invito anche a seguire questo profilo twitter Kronos Infor perché comunque anche lui cerca di dare un po' di aggiornamenti relativi alla blockchain Kronos si chiama Kronos underscore Infor comunque vi lascerò il suo profilo in descrizione. Partiamo con il mondo degli NFT che chiaramente si lancia anche sul blockchain Kronos in particolare ci sono un po' di progetti tra questi c'è Krokos NFT si tratta di NFT a forma di coccodrilli vedete che ci sono 10.000 NFT unici con più di 170 tratti specifici lo stile è sempre un po' lo stesso dei CryptoPunk quindi è una questione algoritmica ci sono i tratti che sono più rari e i tratti che sono più comuni e in base alla realtà dei tratti il vostro NFT in teoria assume un determinato valore. Tenete presente che c'è stata una presale e non ci sono più posti disponibili e il minting parte fra 15 minuti quindi quando pubblicherò questo video sarà già attivo. Altro progetto è Kronos Punk una copia spudorata dei CryptoPunk su Ethereum questo è avvenuto su Puchain quindi non è la prima volta che ci sono delle copie degli originali CryptoPunks. C'è anche una roadmap devo dire che il sito è fatto bene tranne per i colori perché non si vede niente tipo questo qui giallo su nero non si vede veramente niente e questi vedete sono 10.000 e potete già mintarli quindi se io adesso andassi a premere qui su Mint Your Punks andrei subito a mintare il mio NFT. Altro progetto praticamente identico sempre quindi sui CryptoPunk è CrowPunks. Il sito a mio avviso è un attimino più bello ma il concetto è veramente sempre lo stesso ci sono 1111 punks ed è già possibile andare a mintarli premendo su Minter e se non sbaglio uno costa 500 cro. Ultimo progetto NFT che vi faccio vedere è Kronos Chimp Club. Il sito è fatto molto bene a mio avviso è probabilmente il migliore per grafica e gli NFT sono di questo tipo qua quindi di tipo Ape anche questa non è sicuramente innovativa diciamo che il mondo degli NFT Ape era già stato lanciato anche su Ethereum stesso basti pensare ai Board Ape Yacht Club che è quella collezione che ormai ha dei floor price altissimi e questo un po' si ispira anzi direi che si ispira fortemente. Sono molto belli a mio avviso e non è ancora stato lanciato il minting se non sbaglio però parte domani mattina e ci saranno 10.000 di questi NFT da poter mintare e il costo è sempre tra i 300 e i 500 cro per ogni NFT. Tra l'altro tutti questi progetti che riguardano il mondo NFT hanno nella loro roadmap l'intenzione di andare a creare il marketplace nel senso che ci sarà un minting e poi ci sarà la possibilità di comprare e vendere sul mercato secondario. Tenete presente che questa rassegna che vi sto facendo non è una rassegna del tipo lanciatevi su tutti i progetti anzi come vi dicevo all'inizio trattateli tutti come se fossero degli scam guardate poi quelli che vi interessano di più e approfondite anche perché come vi facevo vedere alcuni sono veramente uguali tra loro tra i due CryptoPunks sono veramente uno la copia dell'altro e alcuni potrebbero anche non essere legittimi quindi vi ricordo sempre attenzione fate bene le vostre ricerche telegram twitter discord e chiedete anche un po' il parere sulla community. Spostiamoci nel mondo della DeFi vera e propria quindi mondo money market ed ex quindi exchange decentralizzati il primo di cui vi parlo è tectonic ancora non è avviato partirà nei prossimi giorni non ci sono ancora delle date ufficiali che cos'è è una piattaforma di money market quindi per chiarirci è la ave della situazione dove si possono depositare le crypto e prenderne a prestito delle altre questa qui direi che ha un livello di sicurezza un pochino più elevato in quanto è stato rituitato anche dalla pagina ufficiale twitter di crypto.com questo non vuol dire che è sicuro al cento per cento però la maggior parte dei progetti non è stata rituitata da crypto.com questo sì quindi comunque da tenere monitorato tra l'altro il loro token non ha avuto una private sale quindi non c'è stata nessuna private sale e parlano di fair launch non si capisce ancora bene che cosa questo proprio significhi probabilmente sarà qualcosa del tipo che lo daranno a chi va a porre la propria liquidità ma informazioni precise ancora non ci sono quindi seguiteli sui loro canali se desiderate rimanere aggiornati passiamo adesso agli exchange decentralizzati veri e propri il primo è empire dex come vi dicevo prima questi sono già attivi invece quindi ci sono una serie di exchange già attivi ma non hanno praticamente liquidità quindi sono sia attivi ma non sono utilizzabili almeno per ora questo qui è un normalissimo dex interfaccia grafica che è fortemente ispirata a tutti gli altri sebbene i colori non mi facciano impazzire empire dex in realtà non esiste solo sulla blockchain kronos quindi probabilmente ha uno storico maggiore io non lo conoscevo ma ho visto che esiste anche sulla bsc altro exchange decentralizzato molto interessante è wws finance perché dico molto interessante banalmente è sempre un exchange decentralizzato però anche questo qui è stato rituitato dal profilo di crypto.com e insieme a tectonic tra l'altro sono due tre progetti che sono stati sponsorizzati quindi hanno ricevuto fondi da particle b che è quell'acceleratore che aveva il piano da 100 milioni di dollari di investimenti nella defi di kronos quindi questi due l'hanno ricevuto ripeto non vuol dire sicurezza altissima vuol dire che comunque c'è stato magari una due diligence anche da parte di particle b e un po di crypto.com probabilmente loro lanceranno domani domani mattina se non sbaglio quindi probabilmente quando questo video esce avranno lanciato da poco e il loro token viene erogato per chi deposita la propria liquidità in alcune pool se non sbaglio in wrapped crow bitcoin wrapped crow ethereum questi qui avranno un moltiplicatore per 20 e poi usdc usdt se non vado errato che invece avrà un moltiplicatore per uno vi parlo anche di crona swap che su twitter è quello con il numero di follower più alto però attenzione perché andando a vedere un po nei commenti ho visto che molti in realtà sembrano dei profili un po fake quindi come vi dicevo prima attenzione a guardare solo i dati assoluti cercate anche di guardare l'engagement perché è un po come su instagram è facile andare a comprare anche 50.000 follower ma poi questi 50.000 follower se sono dei bot non creano engagement quindi è abbastanza anche semplice con un po di informazione un po di studio capire se si tratta di veri follower oppure no il loro exchange è già live come potete vedere ma ancora una liquidità bassissima guardate che volendo tradare 10 cro per dai non c'è liquidità sufficiente avrei un impatto quindi uno slippage di oltre il 66 per cento cioè praticamente numeri fuori di testa anche perché 10 cro non sono neanche 4 euro per capirci su crona swap vi so dire che è stato fatto anche un private sale quindi il token proprietario ha diciamo degli investitori che hanno investito prima che questo venisse lanciato tra l'altro è una cosa veramente recentissima cioè la private sale credo sia stata fatta ieri probabilmente o l'altro ieri altro exchange è photon swap anche questo qui è già live e il suo token proprietario si chiama photon in questo momento non vi so dire se c'è stata già una private sale su photon o se verrà dato in fair launch quindi magari come incentivo a chi deposita la propria liquidità su questo mi devo informare se lo sapete magari scrivetemelo qua nei commenti così ci aiutiamo un po a vicenda anche noi in ultimo vi faccio vedere crodex che ha l'interfaccia grafica più pulita mio avviso non che sia diversa dagli altri nel senso che è sempre lo stesso stile uniswap quick swap e non ballo tutti uguali ma come scelta di colori e contrasti a mio avviso è quello un pochino più curato e quindi gli diamo questo quindi gli do questo merito anche questo è già avviato sulla chronos chain ma anche qui liquidità non esiste guardate che se io voglio fare un trade di 100 cro per crx che è il suo token proprietario non riesco nemmeno a farla su crodex vi so anche dire che c'è stata una private sale del suo token crx per chi diciamo era curioso è stata fatta tramite il loro discord ufficiale ecco ragazzi vi ho dato una breve overview di questo ecosistema vi voglio anche fare notare che non voglio darci risalto in questo mio video ma esistono già una serie di progetti meme le classiche meme coin a mio avviso non è affatto interessante portarle sul mio canale perché non penso che diano un valore aggiunto detto questo se volete fare le speculazioni tentare la fortuna eccetera eccetera potete guardarvele qui guardarvi i loro siti loro telegram e decidere autonomamente se veramente tentare con una di queste qui io non ve ne parlo perché ripeto a mio avviso non contribuiscono alla crescita reale di un ecosistema come quello di chronos però già ci sono non poteva mancare chronos doja ovviamente detto questo ragazzi non sarà sicuramente l'ultimo video relativo a chronos anzi è il primo praticamente volevo solo darvi un overview attualmente io stesso non la sto utilizzando visto che è inutilizzabile nel senso che ci sono già protocolli attivi ma non c'è liquidità vi dico che è già possibile utilizzare crypto puntocom per prelevare i cro e anche gli osdc e vera bitcoin e vera peterium se non sbaglio sulla rete chronos direttamente sul vostro indirizzo di metamask perché vi ricordo che chronos è ivm compatibile e quindi metamask come wallet è già perfetto dovete soltanto diciamo configurare la rete per configurare metamask vi lascio in descrizione questo link che è tratto dalla documentazione ufficiale di chronos e vedete qui in basso vi dà tutte le informazioni da inserire nella nuova rete vedete come fare per inserire una nuova rete ve l'ho spiegato già in un video nella playlist dei file a guida completa quindi nel caso potete andarlo a vedere ve lo lascio magari qui in alto a destra detto questo ragazzi vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti